Stiamo chiamando Davide per sapere dov'è Per sapere dov'è proprio essere Qui, da più di mezz'ora Sì? Dove sei? Sono a casa, c'è stato un mischieto con la torta Com'è che sto arrivando? Ok Tipo che con cosa hai fatto al cioccolato? Se... Tipo che ci si è seduto sopra Oh, ci stiamo aspettando Stiamo facendo un video comunque Saluta a tutti Ok, ciao Ciao Davide Credo che viene attaccato Sì Ok Ok